Buongiorno a tutti, sono Matteo Bosio, tecnico dimostratore del canale Pizzeria di Italmilla. A Doste stiamo ripresentando il prodotto di maggior successo della nostra azienda, quindi la scrocchiarella Frozen, un prodotto in grado di essere multi-format e di dare soluzioni operative a qualsiasi tipo di operatore della ristorazione. Ci sono delle attività, dei prodotti che presenterete nei prossimi mesi o addirittura magari all'inizio dell'anno? Scrocchiarella è un prodotto sempre più di successo della nostra azienda, questo perché Scrocchiarella è in grado di offrire la libera interpretazione da parte di qualsiasi tipo di operatore. In questa edizione di Osta abbiamo deciso di far sposare Scrocchiarella con i prodotti del territorio italiano, fornendo una serie di show cooking dei nostri operatori divisi sulle 5 giornate di Osta. Saranno presenti 5 operatori di settore che presenteranno 5 ricette che hanno a tema il territorio nazionale. Abbiamo allargato la gamma di Scrocchiarella Frozen offrendo sempre più formati e sempre più sfarinati, questo per incontrare tutte le esigenze di mercato e per andare a creare un assortimento variegato per il nostro operatore. I 5 sfarinati sono classica, rustica, riso venere, integrale e grano duro, in vari formati che vanno ad assecondare tutte le tipologie di servizio.